Si son presi il nostro cuore Non ci andrà mai alla Schuwe, anzi alla Schuwe segnerà i due gol più importanti nella storia del Cagliari, quelli che hanno permesso ai Rosso-Blu di vincere lo scuglietto nel 70. E poi nel 72, dopo aver perso la finale in Coppa dei Campioni, Agnelli disse a Boniperti, allora io voglio quello là perché quello là deve venire a giocare qui e quindi gli diamo il combaglio che vogliono e poi sette giocatori da scegliere. Tra quei sette ci sono Bettega, Claudio Gentile, Antonello Cucuretto, il Cagliari è felicissimo di dargli viva, ma lui dice no, no, io resto qui. Dai Fabrizio suonaci qualcosa, qualcosa, non importa cosa, suona, suona, no, non suono quello che vuole dire, no, non voglio di suonare. Non è che abbia lesinato con questo, come al solito, due spinte, due litigate, basta, se ne va via. Ma non torna a casa, si chiude in un garage e comincia a scrivere, per fortuna ha voglia, e scrive una canzone che avrebbe perfettamente potuto condividere con Gigi, perché parlerà per sempre di grandi attaccanti che hanno giocato in difesa tutta la loro vita. Una volta mi è anche sembrato di vero attipassare, e non ho bussato perché, perché, dai, sai come sono fatto? Sono uno di quelli che comunque ha sempre paura di disturbare. E comunque, in foto, credo che sia anche meglio così, dai, che ci siamo visti una volta solo. Ciao Fabrizio, ciao.